Un opinionista, editorialista del New York Times scrive un articolo contro Pepe Le Più, Pepe la puzzola negli Unitoons. Perché? Perché con questo fatto che lui continuamente cerca di sedurre questa gattina, convinto che sia una puzzola anche lei, di fatto, diceva questo sul New York Times, sta legittimando la rape culture, la cultura dello stupro. E a seguito di questa cosa, secondo alcuni, forse è un po' una forzatura questa lettura, Pepe la puzzola è stato espunto dal cast di Space Jam 2, il film, perché? Perché era diventato un personaggio problematico. Vale a dire, non si può semplicemente liquidare facilmente il tema dicendo eh vabbè, come siete seriosi, fatevi una risata e non scocciate. La materia prima dell'umorismo è effettivamente l'aggressività. Non è qualche cosa di semplicemente puro e amichevole. Nell'umorismo c'è un elemento di aggressività fortissimo. In alcuni casi è proprio esplicito, se pensiamo anche anche la semplice etimologia della parola sarcasmo vuol dire proprio qualcosa che strazia la carne, è lo stesso di sarcofago, sarx in greco è carne. Il punto è anche però com'è possibile fare umorismo senza offendere nessuno. È possibile finché sei in un contesto molto ristretto in cui parli a delle persone di cui più o meno conosci la storia, la vita, la sensibilità e magari accomunate da qualcosa. Ma quando parli a una grande platea come fai a non offendere nessuno? Puoi farlo a patto di non far più ridere perché non usi più la materia prima dell'umorismo che è l'aggressività tra le altre cose. La libertà di espressione che ha un comico nel palco può essere collegata alla libertà di espressione che c'è nel paese stesso? Domandona, ne sono consapevole. Che per quanto il contesto dello spettacolo comico possa essere chiuso è ovvio che avviene all'interno di una società più vasta e quindi il comune senso del pudore del tuo pubblico in quel momento coincide almeno in parte con quello che c'è al di fuori. Magari è un po' più avanzato perché se uno va allo spettacolo è proprio perché vuole sentir dire cose che non può dire. Ma a volte delle esplosioni di risate che noi abbiamo si devono esattamente a questo e qualcuno dice qualche cosa che noi non sapevamo neanche di pensare. E questo ci libera, ci apre un barco e dobbiamo essere grati per questo barco. L'altro tema che molto spesso viene portato avanti da chi critica la legittimità di fare battute su certi temi riguarda invece le relazioni di potere. Uno degli slogan degli ultimi anni degli attivisti è punch up not down. Puoi colpire chi sta più in alto di te ma non chi sta più in basso perché se colpisci chi sta più in basso e chi è meno potente diventa una forma di microaggressione si dice in certi casi o bullismo. Nelle società dei polli c'è una cosa che si chiama ordine di beccata. Cioè non tutti possono beccare tutti così come capita. C'è una gallina che è un po' la capa del pollaio che nessuno può azzardarsi a beccare. Poi ci sono delle galline diciamo di secondo e che può beccarle in testa tutte. Ci sono delle galline diciamo così di seconda fascia che non possono beccare la sovrana ma possono beccare quelle che stanno sotto e poi ci sono alla fine proprio c'è proprio la gallina che tutti quanti beccano in testa senza alcun tipo di senza che possa far nulla e che diventa una specie di capro espiattolo del pollaio. Effettivamente l'umorismo funziona anche così. È un modo per fissare e stabilire delle gerarchie. Il problema qual è però? È che le società umane sono incredibilmente più complesse delle società di polli. E che quando noi dobbiamo stabilire chi è più potente o come si dice oggi privilegiato di chi non è così semplice. David Chappelle è stato preso per esempio in messo un po' nel mirino per aver fatto delle battute che sono considerate transfobiche. Però David Chappelle è nero e come nero a volte ha proprio espresso questa cosa ma come dice l'attivismo trans ha ottenuto più risultati in pochi anni di quanto noi neri abbiamo ottenuto in secoli. E allora vabbè cominciamo già a complicare un po' le gerarchie. Jerry Seinfeld, grandissimo comico, è stato una volta che lui ha smesso di andare all'università, è stato preso di mira perché aveva fatto una battuta molto divertente anche sul modo in cui noi guardiamo il telefono e scorriamo i nomi e decidiamo va bene questo lo chiamo, questo gli rispondo, questo non gli rispondo. Diceva lo facciamo, dice gay french king, un re francese gay che aveva questa immagine un po' leziosa, settecentesca, l'hanno preso di mira. Jerry Seinfeld è ebreo. L'essere ebrei ti rende, ti legittima a fare battute, peraltro in questo caso molto innocenti su un certo stereotipo l'ancien regime del gay oppure no? Secondo me non è, nel momento in cui uno spettatore si sente offeso, posto che ovviamente ci sono dei limiti che però io non considero così stringenti, quindi ci sono dei limiti assoluti, però nel momento in cui lo spettatore si sente offeso il problema è dello spettatore, non è del comico. Io la vedo più come una forma sua di debolezza, per far ridere bisogna parlare di questioni contemporanee, sociali, politiche e non so, la vedo dura a far ridere sui numeri o su questioni astratte insomma. Quello che dicevi tu, dicevi beh sì certo entro certi limiti, il problema è che proprio noi non sappiamo questi limiti, il comico sta lì esattamente per sondare quei limiti, per dire benissimo per la prima volta faccio una battuta su questa cosa, come la prenderà il pubblico? Mi può mandare a quel paese, posso avere invece la più grande risata della mia carriera? Ma se non provo a farlo, per internazionale pubblicammo un articolo che si chiama, già il titolo era abbastanza discutibile, sicuro lo guarda con una sensibilità molto stretta, accelerating gas, gas esilarante. Qual era il tema? Il tema erano i comici israeliani di seconda generazione, nati diciamo negli anni 60, rispetto agli anni della Shoah, che cominciavano nei comedy club israeliani a fare battute sulla stermina degli ebrei. Erano comici ebrei in un contesto, appunto magari in un club di Gerusalemme e questo però creava delle tensioni perché i giovani ridevano. I più anziani che magari avevano anche fatto a loro volta delle battute su questo, dicevano no, tu non le puoi fare, io le posso fare perché io appartengo a quella generazione lì, io ho passato questa esperienza, ma tu non puoi farle. E quindi ogni volta si creerà sempre un conflitto che è legato ai contesti, quanto più è delicato il tema. Però dobbiamo tenerci stretto questo laboratorio in cui si possono compiere questi esperimenti che sono molto più pericolosi quando vengono svolti all'aria aperta e in politica o altrove. Se stiamo in un club, quantomeno scateniamo delle forze che sappiamo che resteranno qui. Io ho trovato molto illuminante quello che ha detto proprio Ricky Gervaisi, uno di questi monologhi che sono stati molto criticati, diceva è vero io ho fatto delle battute sui trans ed è verissimo, le ha fatte. Però di guardare tutto lo spettacolo, io ho fatto battute su tutti e su me stesso. E questa è la forma forse più grande di uguaglianza che si può ottenere. Cioè ti considero così uguale veramente a tutti gli altri che mi sento anche in diritto di fare battute su di te come le faccio su altre categorie di persone o altri personaggi più o meno potenti. Da questo punto di vista io penso che questa sia veramente la soluzione. Sì, è meglio un contesto in cui si può ridere di tutto e di tutti, con tutti i rischi del caso, che non un contesto in cui si cominciano a stilare delle graduatorie di risate più o meno legittime. Nella tradizione del buffone di corte, qual è il grande privilegio del buffone di corte, che è una figura che esiste proprio in tutte le civiltà da millenni, c'è un libro bellissimo, si chiama Fools Everywhere, su tutta la storia dei buffoni di corte, che era uno strano doppio del re. Cioè esattamente come il re, siccome è al di sopra della piramide sociale, può fare e dire quello che vuole, è però quella è una forma di arbitrio, di potere, di assolutismo. Allo stesso modo il buffone può parlare con una franchezza che non è consentita a tutti gli altri sudditi senza subirne conseguenze. Perché è un po' sciamano e un po' caporespiatorio. È sciamano perché con voglia delle energie profonde che stanno nella società e che non hanno trovato forma ed è caporespiatorio perché lui stesso si immola nel dire cose che possono rovinarlo. Ed è giusto che la sua punizione avvenga nello stesso contesto rituale in cui avviene la sua infrazione. Cioè al limite non si rida di lui, ma non si dica che non si può ridere di qualcosa o che lui non deve poter scherzare su qualcosa. E adesso ragazzi mi scopro il petto e potete farmi fuori nei modi che preferite. Grazie.